Quanto ci costa la Chiesa Cattolica ogni anno, e quanti sono i soldi, che vengono devoluti una tantum dagli enti locali e cioè comuni, province, regioni che finanziano vari progetti, come le ristrutturazioni di Chiese e Abbezzini. Ecco la tabella dei costi. 8 per mille. 1 miliardo 67 milioni euro, 8 per mille, di competenza dello Stato. 66 milioni 307 mila 85 euro, 5 per mille. 54 milioni 500 mila euro, erogazioni liberali. 13 milioni 800 mila euro, esenzione ICI. 500 milioni euro, riduzione IRS. 100 milioni euro, riduzione IRAP. 150 milioni euro, esenzione IVA. 100 milioni euro, esenzioni fiscali e doganali relative alla Santa Sede. 20 milioni euro, pensioni. 22 milioni euro, benefici statali sulle pubbliche affissioni. 2 milioni euro, benefici statali per gli oratori. 2 milioni 500 mila euro, contributi statali per i cappellani nelle forze armate. 12 milioni di euro, contributi statali per i cappellani nella Polizia di Stato. 6 milioni di euro, contributi statali per i cappellani nelle carceri. 8 milioni di euro, contributi statali per i grandi eventi della Chiesa Cattolica. 3 milioni 651 mila 315 euro, insegnamento della religione cattolica nelle scuole. 1 miliardo 500 milioni di euro, contributi statali alle scuole cattoliche. 261 milioni di euro, contributi statali alle università cattoliche. 53 milioni 216 mila 886 euro, contributi statali all'editoria cattolica. 12 milioni di euro, tariffe postali agevolate. 7 milioni 500 mila euro, riduzione del canone tv. 370 mila euro, copertura statale per il consumo idrico del Vaticano. 4 milioni di euro, fondo edifici di culto. 70 milioni di euro, servizio civile. 20 milioni di euro, finanziamenti statali all'associazionismo sociale. 3 milioni 720 mila 417 euro, legge mancia. 12 milioni 500 mila euro, altri contributi statali. 50 milioni di euro. Spese straordinarie delle amministrazioni locali in occasione di importanti eventi cattolici. 20 milioni di euro, contributi delle amministrazioni locali alle scuole cattoliche. 400 milioni di euro, utilizzo dei fondi strutturali europei. 107 milioni di euro, cambi di destinazione d'uso. 150 milioni di euro, altri contributi erogati dalle regioni. 242 milioni 200 mila euro, servizi appaltati in convenzione ad organizzazioni cattoliche. 150 milioni di euro, convenzioni pubbliche con la sanità cattolica. 167 milioni di euro, contributi regionali per i cappellani negli ospedali. 35 milioni di euro, contributi regionali agli oratori. 50 milioni di euro, altri contributi erogati dalle province. 70 milioni 700 mila di euro, contributi comunali per l'edilizia di culto. 94 milioni 100 mila di euro, contributi comunali per i cappellani cimiteriali. 6 milioni di euro, esenzioni comunali dalla tariffa per la gestione sui rifiuti. 10 milioni di euro, edifici di proprietà comunale concessi a condizioni di favore enti e associazioni cattoliche. 3 milioni di euro, sconti comunali per l'accesso a zone a traffico limitato. 1 milione di euro, altri contributi erogati dai comuni. 257 milioni di euro, benefici concessi da fondazioni e società a partecipazione pubblica. 200 milioni di euro, cerimogne di culto in orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, negli enti e nelle società controllate dallo Stato. 1 milione 500 mila euro, per un totale complessivo di, 6 miliardi 86 milioni 565 mila 703 euro. 4갔i pari arassi iss novamente. 148 milioni di euro,azioni commerciale, sono attemati tutti. 7 milioni di euro, ma concessi sui offresi trasfero per il l'�overe dalle dell'accesso. 6 milioni di euro.